Presidente Serracchiani, da oggi la Regione Friuli Venezia Giulia sarà sui social network, Twitter, Facebook, Instagram, però ovviamente senza parole ostili. Sì, abbiamo approfittato di questa iniziativa davvero straordinaria che ha avuto una grande eco ed è anche molto importante. Abbiamo parlato di educazione e di parole ostili, però abbiamo deciso come Regione Friuli Venezia Giulia di utilizzare i social, per cui abbiamo Facebook, abbiamo oggi aperto anche il profilo di Twitter, perché vogliamo essere presenti in modo trasparente sulle cose che facciamo, vogliamo avere un confronto con i cittadini, vogliamo anche avere, perché no, dissenso laddove evidentemente le cose non funzionano, non hanno funzionato come avrebbero dovuto e anche apprezzamento se qualche volta le azzeccheremo. Quindi credo che sarà lo strumento per essere vicini ai nostri cittadini e per scambiarci anche delle opinioni.